Bello, siamo stati proprio chiusi in casa. Non se ne poteva più, io sto davanti al parco a vederlo così vuoto, era un'esolazione. Dopo due mesi di stop riaprono i parchi comunali a Eretini, ma non tutti. E in particolare riapro il parco Ducci, con l'unico accesso dalla Via Giotto in corrispondenza di Piazza Giotto. Quindi c'è un unico accesso aperto e che sarà controllato dalla polizia locale. Sarà aperto, scusatemi, il parco Ducci, ho detto una sciocchezza, abbiate pazienza. Il parco Ducci è aperto con l'apertura di fronte alla Caserma dei Carabinieri. Mi riferivo evidentemente, quando vi ho detto l'apertura da Via Giotto, al parco Pertini. È aperto sia il parco Pertini da quell'unico accesso, sia il parco che c'è in Via degli Accolti, separato dal parco Pertini appunto da Via degli Accolti, che sarà aperto anch'esso. Viene aperta il parco di Via Fiorentina, quello che c'è diciamo in Via Emilia, se non ricordo male, di fronte alla scuola, la scuola Vasari. Verrà riaperto il parco di Villa Severi, verrà riaperto il parco del Forobuario, il piccolo parchettino del Forobuario, e verrà riaperto quel piccolo parchetto che c'è alla Marchionna. Rimangono chiusi il Pionta, il parco Arno, il parco di Via Leone Leone, diciamo ex Inadel, per capirsi, e rimane chiuso l'anfiteatro e rimane chiuso il parchetto di San Donato. Off-limits restano in tutti i parchi i giochi per bambini, tutti transennati per motivi di sicurezza. Una riapertura dunque tanto attesa, ma non senza polemiche. Al parco Pertini, che avrà un unico accesso possibile, controllato per evitare che si creino assembramenti, infatti nel giorno della riapertura la situazione è questa. Erba alta, scarsa manutenzione ed infine cantiere accessibile, in quanto le transenne sono cadute ed ancora ad oggi restano a terra.